Ciao a tutti! Oggi prepareremo le taccole al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono taccole, cipolla, pasta di pomodoro, olio evo, dado vegetale bimbi, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo spuntato e lavato le taccole. Adesso metteremo nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la salsa di pomodoro, le baccole, il dado, il sale, il pepe. e cuocere per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Amalgamare con la spatola e proseguire la cottura per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Le taccole sono cotte, impiattare e servire. Taccole al pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.